ragazzi sappiamo tutti cosa sta succedendo a napoli per quanto riguarda la situazione sportiva calcistica anche di classifica che si trovano in una posizione non congrua ad una formazione ad una rosa del genere sono pur sempre i campioni d'italia e quindi ritrovarsi in queste condizioni a metà campionato è proprio un fatto eclatante clamoroso e chi più dei big che ne stanno proprio risentendo dal punto di vista morale psicologico come osimen e quarascheglia e proprio oggi la gente dell'esterno giorgiano mamuca yugeli o yugeli non lo so insomma l'accento della giorgia non lo conosco ha rilasciato un'intervista al formicotone le ha proprio spiattellate tutte le notizie non le ha lasciate proprio non ha lasciato nulla al caso l'ha detta come la pensava senza fronzoli senza peli sulla lingua e andremo a leggere e anche ad argomentare le sue parole le sue frasi perché sono proprio al formicotone al vetriolo come volete chiamarle io ragazzi che vi dico questo signore sta facendo gli interessi del proprio calciatore è giusto che sia così però dire alcune frasi nei confronti anche di osimen che non fa parte della sua del suo entourage lascia un po' a desiderare mi lascia stupefatto adesso andremo a leggere comunque fatevi salutare un benvenuto a tutti dal vostro enrico caffarelli che vi invita a supportare questo video con un like anzi vi ringrazio per quelli che avete messo in precedenza alle iscrizioni non finirò mai di abbracciarvi seppur virtualmente alcuni di voi mi dicono enrico anche io ti voglio bene sei un mio amico anche se se sei virtuale no io sono in carne d'ossa ve lo ve lo ve lo sottoscrivo non sono intelligenza artificiale anche se intelligenza c'è poco magari di artificiale potrebbe esserci comunque ragazzi andiamo a leggere perché magari qualcuno di voi può infastidirsi di queste mie parentesi aperte e chiuse allora ha rilasciato l'intervista e ha parlato in primo luogo di osimen ragazzi di osimen ha detto osimen era rabbia ha firmato un nuovo contratto ma tu pensi davvero che giocherà nel napoli per tutta la sua carriera lo dico adesso andrà a giocare in arabia saudita in estate la gente di quaraskelia ha menzionato osimen ed ha affermato queste testuali parole non lo sto dicendo io ma lo sta dicendo sport 1 giorgia ha rilasciato un'intervista al cor nazionale mamma mia come si chiama zone sozzo sozzone come sozzone sozzo sozzone vabbè chinklazze mamma mia scusate ragazzi è un giornalista della giorgia e praticamente ha detto che in napoli ha aumentato il contratto di osimen e proprio per questo motivo per venderlo in maniera più profigua più più sostanziosa no dal punto di vista del del petro dollaro all'arabbia saudita io se mi permettete posso un po' storcere il naso perché sto vedendo che tutti quanti da quel posto se ne vogliono andare non si trovano bene a prescindere dai soldi che gli hanno riempito le saccocce e avranno le famiglie dei loro nipoti dei loro pronipoti di intere generazioni generazioni una decina minimo di generazioni senza problemi economici però dal punto di vista calcistico hanno ben poco da da essere fieri da essere felici perché gli stati sono tutti vuoti le televisioni all'inizio erano curiose adesso invece non non sottoscrivono più contratti il campionato è soltanto di quattro cinque squadre le altre sono tutte squadrette insomma formazioni poco o nulla perché se non ci metti i campioni internazionali lì in arabia saudita ma che ne sanno che cos'è il calcio neanche conoscevano un pallone lì conoscono tanto i cammelli e il petrolio e calla che mo qualche qualche saudita mi viene a cercare a casa scherzo io e invece poi ha parlato di guarascheia e ha detto che qui già non accetterebbe un trasferimento in arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro ad esempio probabilmente accetterebbe di giocare per il real madrid per il bayern monaco per il barcellona per il manchester city a volontà ed obiettivi diversi vuole avere successo e già lo sta ottenendo e dice che chi conosce il calcio sarà d'accordo con me sul fatto che guarascheia non ha limiti e potrà solo migliorare ho avuto contatti con tanti club quindi già lo hanno cercato e non e non stiamo scoprire scoprendo l'acqua calda e ma de laurenti se lo lascerà andar via in questo momento c'è un contratto con il club tutto poi gli dice le big d'europa cosa cosa intendono fare con il suo assistito con guarascheia barcellona real madrid e bayern ovviamente dopo una stagione vincente può esserci interesse da parte del barcellona del real madrid e del manchester quindi già ci avrà parlato con queste squadre il furbone tutto avverrà a tempo debito e ancora presto anche perché qui già è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre giocatori al mondo tra i primi tre giocatori al mondo secondo lui io non lo so se tra i primi tre comunque è uno dei più forti giocatori in circolazione adesso nessuna squadra direbbe no all'idea di poterlo averlo in formazione rosa e su questo mi trovo d'accordo perché uno come guarascheia farebbe comodo a qualsiasi club importante che ha una che abbia una cassa di risonanza a livello mondiale questo sì però devo dire anche fatemi parlare dire la mia che guarascheia sta passando un periodo dove lo vedo un po sottotono un po troppo nervoso e quindi la gente prima di dire queste frasi pensasse a far riprendere dal punto di vista soprattutto psicologico della morale il suo calciatore che sta attraversando un periodo difficile quindi adesso parlare di trasferimenti di contratti e di altre cose secondo me è relativo dovrebbe fare del tutto affinché il suo calciatore possa tornare ai fasti di un tempo dove faceva stropicciare gli occhi ai tifosi napoletani che stanno guardando sicuramente questo video e che ringrazio e anche a noi sportivi che piace il gioco del calcio siamo appassionati a questo sport che è il migliore al mondo vedere guarascheia l'altro anno era come vedere un film di ridley scott e come era come andare a teatro per chi piace andare a teatro non lo so è come mangiare una carbonara qui a roma no era una bellezza vederlo quando se ne andava sembrava uno slalomista non lo prendevi mai e quest'anno invece l'ho visto diverse volte come come sto giusticolando un po troppo con le mani adesso me le leggo come molti di voi sanno io ho osservato parecchie partite del napoli perché volevo vedere se ci fosse una un cambiamento una un cambio un cambio di rotta soprattutto no perché prima o poi me l'aspetto perché il napoli non può essere questo lasciatemelo dire un una squadra che che ha campioni del genere è soprattutto da rinforzare questo sì e de laurentesi secondo me sta pensando proprio a questo fatto e molto probabilmente come ho detto nel video precedente oltre a mazzocchi arriveranno altri eh giocatori che andranno a posizionarsi negli slot dove il la formazione di mazzarri ha un pochettino sofferto eh ci sono varie zone del campo dove appunto hanno peccato diciamo nella globalità del dello schema tattico è stato un po' deficitario il napoli però se va ad essere rinforzato in settore nevralgici nevralgici del della formazione secondo me il napoli può soltanto che riprendersi certo lo scudetto ormai penso che sia un un traguardo difficilissimo da 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 ripetere anche se nel calcio mai dire mai eh mai dire mai però secondo me la zona champions può rifarsi sotto perché abbiamo visto che oltre a inter e juve giusto un po' il milan ma il quarto posto è ancora una bagarre là ci sono tutte le squadre in corsa e quindi il napoli può inserirsi anche se quest'anno poi probabilmente ci possono essere cinque posti e per la champions league bisognerà guardare il ranking il ranking UEFA ed è per questo che io quando guardo le squadre giocare e le competizioni europee spero sempre che arrivino più avanti possibile almeno anche la mia Roma o qualsiasi altra squadra può avere delle possibilità di qualificarsi in champions league e lì ci sono i soldi che contano lascia il tuo commento qua sotto sicuramente lo leggerò se ti fa piacere spollici anche un bel like iscriviti al canale e se lo fai attiva la campanella delle notifiche e seguimi anche su instagram qua sotto ti lascio il link in descrizione ragazzi su instagram siamo arrivati a 13 mila sono molto contento non me l'aspettavo vediamo di salire anche qui su youtube beh no eh che beva schifo ciao da Enrico Caffarelli